Quest'anno purtroppo a causa del Covid non siamo riusciti a essere fisicamente in reparto come tutti gli altri anni con i nostri bambini ospedalizzati sia in pediatria che in oncoematologia e non appena il signor Graniglia ci ha proposto questa iniziativa noi l'abbiamo immediatamente accolta. L'abbiamo proposta la direzione che ha accolto lo spirito di questa iniziativa e ci ha autorizzato quindi speriamo di regalare un momento di gioia anche così inatteso ai nostri bambini e alle famiglie perché in questo momento purtroppo i nostri bambini non avranno in reparto neanche entrambi i genitori purtroppo in questo momento hanno solo un genitore quindi immaginate la tristezza dei bambini che sono ricoverati in questo periodo di feste. Basta pensare chi sta in quel reparto e se ognuno di noi facesse un qualcosa sia per questi bambini che per altra gente forse riusciremmo ad avere una tranquillità interiore maggiore rispetto a quella che abbiamo adesso. Come è nata questa idea così originale? È nata da un mio amico che ha detto ma quest'anno non dobbiamo fare niente visto il covid e ci è venuta l'idea di interpellare questa azienda che non finirò mai di ringraziare edilizia acrobatica che come li ho chiamati si sono messi a disposizione in maniera non veloce di più. Cosa accadrà nel dettaglio? Nel dettaglio ci saranno otto babbo natale che scenderanno si caleranno con delle cime busseranno alle finestre di questi bambini sfortunati che speriamo di dargli un attimo di tranquillità e di felicità. Dialogheranno con loro, noi li ascolteremo perché avremo un microfono collegato agli altoparlanti e poi niente si caleranno e arriveranno giù per salutare anche gli altri bambini qui presenti. Ma questo è un periodo non facile per tutti, per i pazienti, per gli operatori sanitari e lo è ancora di più per i bambini che vivono un periodo di isolamento. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di non farli sentire soli e di fare in modo che questo periodo passi in fretta. Oggi è una bella giornata, è una giornata con il sole e questi babbo natali che scendono dal cielo sono un messaggio di speranza per i nostri bambini.